carissimi ragazzi carissimi colleghi eccoci anche quest'anno impegnati a sviluppare la settimana del codice nelle nostre classi quest'anno la code week ha inizio sabato 7 e termina domenica 22 ottobre svilupperemo il pensiero computazionale abbiamo detto tante volte che il pensiero computazionale come la scuola è per tutti e quindi durante queste due settimane ci divertiremo a fare coding a sviluppare all'interno della delle nostre discipline il pensiero computazionale a creare cose nuove e a divertirci questo è il quinto anno che il nostro istituto partecipa all'european code week proponendo ai nostri alunni percorsi di pixel art programmazione su piattaforme percorsi e attività unplugged percorsi su cs first e su scratch ma anche attività che vedranno i ragazzi impegnati nella robotica educativa come mbot b bot e ozzo bot come negli anni passati il polo tecnologico figurerà in prima fila ma tutti i riconoscimenti che abbiamo ottenuto in questi cinque anni sono il risultato di un lavoro di squadra di tutti i plessi dell'istituto del vergante inizierei con il linguaggio delle cose il linguaggio che noi impariamo è la nostra lingua madre poi scopriamo che nel mondo non esiste solo il linguaggio che noi parliamo ma ne esistono parecchi altri impariamo poi che non solo le persone parlano ma parlano anche gli animali i supereroi i maghi i bambini parlano spesso con le cose e quindi parlano anche gli oggetti e fanno cose che noi chiediamo loro di fare riflettiamo bene pensiamo alle nostre case oppure alle nostre auto all'interno ci sono moltissimi oggetti che parlano ma come fanno gli oggetti a parlare parlano perché sono smart ovvero contengono un microprocessore che sa interpretare ed eseguire istruzioni parliamo di istruzioni che devono essere molto chiare molto semplici fornite una alla volta ma eseguite molto in fretta si parla di un miliardo di istruzioni ogni secondo i microprocessori devono essere programmati e la programmazione è il linguaggio delle cose desidero farvi un esempio che nella mia formazione mi ha colpito molto questa è un'immagine del film Apollo 13 la trovate anche su youtube la trovo utile perché in questa scena vediamo la creatività in azione su Apollo 13 si è verificato un grosso problema e per risolverlo gli astronauti devono creare un filtro utilizzando solo gli oggetti a loro disposizione che permetta loro di continuare a respirare il materiale a loro disposizione non è quello originale in quanto a nessun progettista nella costruzione della navicella aveva ipotizzato un problema di questo tipo quindi per salvarsi la vita i nostri astronauti hanno a loro disposizione delle cartucce quadrate che devono entrare in una forma rotonda il problema da risolvere è molto complesso si devono inventare una soluzione ed eccoci davanti alla creatività all'uso delle sequenze in questo caso verrà suddiviso il problema in sequenze in blocchi in modo tale da riuscire a trovare una soluzione e allora nella nostra presentazione partiamo dalla domanda ma che cos'è la settimana del codice è semplicemente l'occasione per dare spazio alla creatività per impegnarci nella risoluzione di problemi è un momento fatto di collaborazione tutti insieme studenti con studenti studenti con docenti docenti con docenti attraverso la programmazione e le attività tecnologiche ma facciamo un passo indietro la prima code week la troviamo negli states nel 2013 e come ogni evento importante ha una colonna sonora che è quella che avete ascoltato all'inizio e che vi faccio riascoltare adesso un attimo di tranquillità questa è la colonna sonora il titolo è ode to code ed è in quella che avete appena ascoltato è più lunga è la colonna sonora con questa colonna sonora potete ballare divertirvi divertirvi a creare scenografie e divertirvi utilizzando magari il coding per realizzare le coreografie esiste una mappa la trovate a questo link che attesta la registrazione di tutti gli eventi che le scuole organizzano esiste una piattaforma italiana si chiama programma il futuro è molto utile e in essa potete trovare parecchi esercizi sia per gli alunni più piccoli sia per quelli più grandi e contiene idee per esercitarsi anche unplugged l'anno scorso la code week ha festeggiato dieci anni la code week celebra la creatività propone la risoluzione dei problemi e invita a collaborare attraverso la programmazione e propone parecchie attività tecnologiche noi docenti ci attiviamo perché questa settimana sia speciale perché la programmazione aiuta a sviluppare le competenze quali pensiero computazionale perché offre la possibilità di muovere i primi passi come creatore digitale e se partecipiamo in tanti possiamo anche guadagnarci il certificato di eccellenza finita la settimana è possibile guadagnare il certificato di partecipazione per ogni attività di coding realizzata e poi un certificato di eccellenza per tutte le scuole e associazioni che partecipano con almeno dieci attività collegate da un codice questo è il codice del licivergante per ogni su tutte le attività che licivergante ma anche le altre scuole invito anche le altre scuole auto utilizzare il nostro codice registrano collegano appunto le attività che inseriscono in mappa a questo codice e ogni scuola e associazione che ha generato il codice per parteciperà alla code week for all questo è il codice che vedete che va condiviso tra colleghi dello stesso ic dello stesso istituto ma può essere anche condiviso da colleghi di altri istituti al momento dovete ricordarvelo al momento della registrazione del singolo evento quindi occhio al codice segnatevelo a questo punto non mi resta che augurarvi buona code week e dar vita a tutti insieme a nuove idee creative divertitevi e create qualcosa di bello che parli di voi let's start e buona code week a tutti